buongiorno a tutti eccoci arrivati con il classico video del sabato dedicato all'eurodollaro e cosa potremo aspettarci per la prossima settimana in ottica operativa prima di iniziare col video però vi chiedo di lasciare sempre un mi piace di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina se ancora non l'avete fatto iniziamo subito con il video bene possiamo partire con la view che ho su euro dollaro come potete vedere il grafico è qui praticamente a fianco a me e abbiamo come al solito una view weekly daily quindi grafico settimanale da una parte grafico daily dall'altra e possiamo notare quello che sta avvenendo sul mercato diciamo sia nelle ultime settimane che negli ultimi giorni quindi nelle ultime settimane abbiamo avuto come abbiamo visto un movimento da minimo a massimo molto chiaro che era partito da 1.1750 circa fino a 1.2250 un movimento abbastanza verticale direi che ha breccato anche un'area dinamica e che addirittura questa settimana ed è un po quello che avevamo detto anche la settimana scorsa quindi con questa falsa rottura rialzo recupero ma questo recupero come potete notare non è mai andato nemmeno a violare i minimi precedenti addirittura rimane al di sopra in chiusura vedete di questa area 1.2160 1.2170 diciamo che questa seppur qui abbiamo una barra che ci mostra un po' di difficoltà un indebolimento di quella che è la view almeno nel breve però se poi andiamo a vedere un po' il tutto in realtà probabilmente un altro salto in alto il nostro euro dollaro lo potrebbe fare quindi vedete che abbiamo l'area 1.2130 come chiusura successiva e che poi sono praticamente i massimi degli ultimi tempi dell'euro dollaro e quindi quello che mi potrei aspettare sinceramente potrebbe essere una riconquista dei massimi anche dell'area 1.2320 nel breve diciamo che la la fotografia delle ultime settimane è da osservare soprattutto perché un movimento al ribasso sotto 1.2120 scusate cioè sotto questo livello in effetti potrebbe portare anche a un movimento al ribasso anche molto più importante quindi anche area 1.2050 1.2030 potrebbe arrivare ma al momento questa è una view secondo me successiva secondaria quindi per quanto mi riguarda molto probabilmente questa settimana seppur rimarrò doppia direzione quindi rimarrò a valutare sia short che long nell'ottica di breve termine quindi di qualche giorno di base vista la price action che si è venuta a creare negli ultimi tempi anche un po' quindi negli ultimi giorni anche un po' nei mercati correlati all'euro dollaro direi che mi potrei aspettare di più un movimento verso l'alto quindi una situazione più bullish tant'è che tendenzialmente l'idea potrebbe essere quella anche di comprare euro dollaro già andando a cercare di capire cosa avviene però lunedì martedì non lo so comunque una di quei giorni lì potrebbe anche essere interessante vedremo ovviamente come apre perché se lunedì apre e siamo già molto in alto o addirittura stiamo molto deboli ovvio che non è che vado a entrare sul mercato cercherò delle conferme però la situazione diciamo che è positiva è più positiva è un po' più chiara anche della settimana scorsa perché ha già fatto questo massimo che è un massimo arrotondato ma che arriva e rompe i minimi non ce la fa e fa fake con una chiusura tra l'altro al di sopra di 1.21.70 quindi questa cosa è sicuramente importante da seguire da vedere e quindi sarei più per comprare nuovamente euro dollaro anche all'interno di questa barra o leggermente sopra vediamo un po' ripeto come si struttureranno i prezzi la settimana prossima ma potrebbe essere assolutamente interessante ecco il fatto che ci possa essere un declino dell'euro dollaro sotto questi minimi diciamo che non porterebbe a fallire la view long perché comunque poi abbiamo degli altri livelli qui importanti no per ulteriori spinte long diciamo che nel breve si si andrebbe un pochino a degradare la figura rialzista che si viene venuta a creare rispetto a questa tendenza però non si verrebbe a cambiare totalmente la view voglio dire nel breve ci potrebbe essere questo ribasso diciamo che l'euro è forte ultimamente non solo ultimamente nell'ultimo anno anche se poi abbiamo avuto questo grande declino ma in realtà poi è ancora forte stiamo ancora sopra 1 21 in maniera molto chiara praticamente siamo nei pressi 1 22 questo già ci sta confermando la forza che ha l'euro dollaro e quindi ecco in ottica ma guardando anche appunto gli altri mercati devo dire che questo è un mercato assolutamente forte e io sinceramente spingerei per un ulteriore allungo verso 1 23 e 30 1 23 e 20 nel breve quindi potrebbe essere il trade per la settimana ovviamente lo valuterò insieme agli amici del platinum nel sito di forex quindi il nostro servizio operativo didattico e valuterò ma potrei valutare anche un long insomma in quest'area diciamo in questa zona o anche un po più sopra diciamo l'obiettivo potrebbe diventare proprio le chiusure che ho segnato quindi 1 23 e 30 primo obiettivo che comunque può essere interessante essendo in questo momento noi a 1 21 e 90 e quindi insomma diventa un obiettivo di oltre 100 pips che potrebbe anche già fare in settimana voglio dire quindi ecco rimango in ottica per riassumere doppia direzione cioè comunque mi mantengo anche possibilità per uno short però sono più per un fattore long nel senso che anche se ci dovesse essere nuovi minimi per cercare ulteriori allunghi in questo momento sull'euro dollaro non vedo ancora di più con la chiusura di settimana che poi anche bene o male la chiusura del mese perché lunedì si è l'ultimo giorno del mese ormai un pochino si è chiusa la figura del mese di maggio sinceramente vedo un'ulteriore possibilità di allungo verso la zona di massimi precedenti quindi euro che vedo assolutamente forte detto questo quindi io ho detto tutto breve video pillola ma so che a molti piace questa pillola del sabato dedicata all'euro dollaro a questo punto io non mi resta appunto che congedarmi ma prima vado a prima di salutarvi vado a ricordarvi sempre di mettere mi piace di iscrivervi al canale di attivare la campanellina del canale per ricevere tutte le notifiche dei video io vi saluto e noi ovviamente ci vediamo ai prossimi video ciao a tutti ciao a tutti